Dall'1 all'8 dicembre torna a Cosenza la settimana della cultura calabrese. L'undicesima edizione della manifestazione intende riprendere a raccontare la bellezza della terra di Calabria attraverso i libri, tra gli strumenti più amati per godere della cultura. Io credo che sia indispensabile non interrompere quelle che sono le buone pratiche culturali. Ci sono stati momenti in cui Cosenza ha vissuto molto di cultura e la cultura sappiamo che è fondamentale anche per rafforzare un'idea di città perché è una città che ha storia, che ha tradizione e quindi che ha cultura sicuramente ha qualche cosa da raccontare ma soprattutto ha qualche cosa da realizzare. Attraverso la cultura si creeranno le condizioni per uno sviluppo migliore della nostra società e quindi soprattutto per quello che mi riguarda nella mia città. Queste iniziative, queste manifestazioni sono e saranno supportate dalla mia amministrazione che ha posto la cultura come base anche di sviluppo di un'area che veniva ricordata nel passato come l'Atene della Calabria. Ha perso un po' di smalto ma noi crediamo e speriamo che recuperando anche i finanziamenti che arriveranno nella cultura dal PNRR si possa realizzare un qualche cosa che possa far risplendere quella che era la storia della nostra città.